è molto importante comprendere un concetto fondamentale legato alla qualità dei dati il machine learning non può garantire la qualità dei risultati se i dati usati per l'apprendimento dei modelli predittivi sono scarsi, incompleti, sbilanciati, inaccurati questo perché i dati sono la materia prima degli algoritmi di machine learning ed è quindi chiaro, chiarissimo che se i dati sono di bassa qualità gli algoritmi non possono apprendere correttamente che relazioni ci sono fra le variabili e non possono quindi neanche generalizzare le funzioni che descrivono i vari fenomeni che poi vogliamo prevedere e questo ovviamente porta a dei risultati che sono sbagliati o inaffidabili o addirittura irrilevanti per esempio, se i dati sono scarsi, cioè non sufficienti a coprire tutti i casi possibili gli algoritmi di machine learning dovranno in qualche modo sovradattarsi ai dati e non saranno in grado di gestire situazioni nuove o diverse da quelle su cui si sono addestrati se i dati sono incompleti, cioè se mancano di alcune informazioni importanti gli algoritmi di machine learning quindi potrebbero ignorare o sottovalutare alcuni fattori che potrebbero influenzare il fenomeno o il compito da svolgere poi se i dati sono sbilanciati, cioè se presentano una distribuzione non uniforme delle classi o delle categorie da predire o classificare allora gli algoritmi di machine learning possono essere influenzati dalla presenza della classe maggioritaria e trascurare la classe minoritaria infine se i dati sono inaccurati, cioè se contengono degli errori, rumori, incongruenze, falsificazioni qualsiasi cosa che infici l'accuratezza di quei dati gli algoritmi di machine learning ovviamente prenderanno delle decisioni sbagliate, distorte, fuorvianti per questo motivo è fondamentale e davvero importantissimo assicurarsi che i dati usati per il machine learning siano dei buoni dati, good data, alta qualità, completi, accurati, bilanciati, rappresentativi del fenomeno su cui vogliamo applicare quel modello ora andando un po' più nella forma andiamo a essere un po' più formali parliamo di qualità di dati si riferisce alla caratterizzazione e misurazione delle proprietà quantitative e qualitative dei dati sia individuali che collettivi alcune delle proprietà che definiscono una buona qualità dei dati che poi sono quelle che trovate nel cerchietto rosso della slide sono la consistenza, cioè il grado di uniformità e coerenza dei dati rispetto a determinate regole o convenzioni prestabilite formato, tipo, scala, dominio dei valori eccetera accuratezza, cioè il grado di correttezza e veridicità dei dati rispetto alla realtà quindi in questo campo ci sono bassa presenza di errori, distorsioni, approssimazioni eccetera compatibilità, cioè il grado di omogeneità e integrazione dei dati provenienti da diverse fonti, da diversi sistemi e quindi anche la presenza di conflitti, discrepanze o incongruenze fra dati provenienti da sistemi diversi completezza, sarebbe il grado di copertura e rappresentatività dei dati rispetto al fenomeno che stiamo analizzando e per il quale vogliamo implementare un modello predittivo e quindi valori mancanti, valori ridondanti, valori irrilevanti tempestività è il grado di aggiornamento o la rilevanza temporale dei dati rispetto al contesto che stiamo considerando quindi la presenza di ritardi, obsolescenze, scadenze rientrano tutte nel fattore di tempestività la qualità dei dati nel machine learning poi si può valutare e migliorare in diverse fasi, durante diverse fasi del processo di apprendimento come raccolta, preparazione, labeling, cioè etichettatura e monitoraggio dei dati stessi alcuni dei metodi per valutare e anche migliorare la qualità dei dati sono quelli che vediamo nel cerchietto verde nella slide sempre e sono questi metodi il benchmark detto anche gold standard consiste nel confrontare i dati con un insieme di riferimento che contiene i valori realmente corretti o comunque desiderati e poi andare a calcolare le metriche di errore o di discrepanza dei nostri modelli il consenso che consiste nel confrontare i dati con le opinioni o le valutazioni di gente più esperta e calcolare quindi in questo senso delle metriche anche in questo caso di accordo o di divergenza la revisione che consiste nella verifica manuale o automatica dei dati per andare a individuare o correggere problemi, anomalie e pensiamo anche a errori ortografici nei problemi relativi all'NLP cioè il natural language processing poi abbiamo riempimento che consiste nel completare i dati mancanti con dei valori stimati o derivati da altre fonti o colmati con metodi statistici come media, mediana valori tirati fuori da una regressione infine rilevanza anzi non infine, rilevanza che consiste nel selezionare i dati più pertinenti per il modello da destraire andando a eliminare quelli superflui o comunque definiti irrilevanti come per esempio variabili costanti variabili costanti come feature costanti variabili che hanno una alta correlazione o variabili che sono molto rumorose infine rilevamento che consiste nell'identificare i dati anomali detti anche outlier o fuori distribuzione che possono quindi influenzare negativamente il modello da destrare ci sono moltissime tecniche per identificare queste osservazioni e sono basate sulla densità, sulla distanza o anche sul clustering dunque la qualità dei dati nel machine learning è un concetto molto relativo ma molto importante ed è anche dipendente dal tipo di modello dal dominio applicativo dagli obiettivi che gli utenti i creatori di modelli si pongono non abbiamo quindi una definizione assoluta di dati buoni di buona qualità dei dati però dobbiamo tenere sempre presente che tutte le proprietà e tutti i metodi che sono stati appena esaminati sicuramente garantiscono una buona qualità dei dati di addestramento per i sistemi predittivi e per i modelli il machine learning non può spiegare in maniera trasparente e chiara il funzionamento o perlomeno sempre il funzionamento e la logica degli algoritmi e delle previsioni e questo è tanto più vero quanto più lavoriamo con modelli complessi o con modelli lineari addirittura questi modelli sono spesso considerati delle vere e proprie black box delle scatole nere che non rendono espliciti né i criteri né i pesi utilizzati per prendere effettivamente le decisioni questo significa che non è facile capire quali sono le caratteristiche dei dati che influenzano maggiormente l'output dei nostri modelli né tantomeno come queste caratteristiche interagiscano fra loro e l'altra conseguenza che abbiamo di questa cosa è che è anche difficile verificare la correttezza, la coerenza e anche la robustezza dei modelli così come individuare eventuali errori o anomalie nell'architettura dei modelli ad esempio se un modello di machine learning viene utilizzato per classificare richieste di carte di credito in base a caratteristiche come età, reddito, storia creditizia e quant'altro non è facile capire come il modello su la base di quale criterio il modello assegna un punteggio di credito a ogni richiesta oppure il motivo per cui una richiesta viene approvata o rifiutata sappiamo che essa viene approvata o rifiutata ma spiegare in maniera chiara, trasparente che cosa sta succedendo sotto il livello del mare non è sempre possibile per questo motivo è molto importante cercare di rendere quanto più possibile interpretabili i modelli di machine learning interpretabile significa che un modello che bisogna essere capaci di fornire delle spiegazioni o delle giustificazioni delle decisioni del modello e anche della loro architettura possiamo avere vari livelli di interpretabilità e a seconda del tipo del modello abbiamo anche soluzioni diverse però la caratteristica fondamentale dell'interpretabilità e le caratteristiche fondamentali dell'interpretabilità è che devono permettere di analizzare e migliorare le performance e la robustezza dei modelli devono poter far verificare e correggere distorsioni nei modelli o errori nei modelli e devono spiegare e giustificare le decisioni dei modelli in maniera chiara, netta e trasparente sia agli utenti sia anche alle autorità addirittura e devono ovviamente se tutto questo accade la conseguenza è che verrà generata fiducia e accettazione da parte degli utenti nei modelli stessi per ottenere questa caratteristica di interpretabilità all'interno del machine learning possiamo avere due metodi fondamentali i metodi intrinseci e i metodi estrinseci i metodi intrinseci sono quelli che utilizzano sono quelli che utilizzano modelli che sono già interpretabili modelli come per esempio i modelli lineari o gli alberi decisionali questi modelli sono semplici e sono trasparenti chiaramente il drawback è che sono meno potenti e meno flessibili di altri modelli non lineari che magari sono sicuramente più complessi ma che sono ovviamente meno interpretabili poi abbiamo i metodi estrinseci i metodi estrinseci sono quelli che utilizzano tecniche aggiuntive per estrarre informazioni da modelli di machine learning da modelli di machine learning in particolare che non sono di per sé interpretabili come per esempio le reti neurali questi metodi hanno il vantaggio di poter essere applicati a qualsiasi modello ma chiaramente hanno lo svantaggio hanno anche se uno svantaggio che è quello di essere un po' più complessi e in generale un po' meno affidabili esempi di metodi estrinseci ci sono partial dependence plot che è una tecnica che mostra come una predizione del modello varia in funzione di più variabili di output tenendo costanti le altre oppure individual conditional expectation essa è una tecnica che mostra come la predizione di un singolo modello possa variare in funzione di una variabile di input per ogni singola osservazione permettendo quindi di identificare eventuali interazioni fra le variabili o anomalie poi abbiamo la permuted feature importance è una tecnica che misura quanto la performance del modello effettivamente peggiora quando si mescola casualmente il valore di una variabile di input e quindi indicando quanto quella variabile è effettivamente rilevante nel processo decisionale del modello poi abbiamo global surrogate e local surrogate global surrogate è una tecnica che approssima il comportamento del modello originale con un modello interpretabile come abbiamo detto albero decisionale o regressione logistica e utilizza le informazioni del modello interpretabile per spiegare il modello originale il local surrogate invece è una tecnica che approssima il comportamento del modello originale originale con un modello interpretabile ma solo in un intorno locale di una previsione specifica e dopodiché queste informazioni del modello interpretabile vengono utilizzate per spiegare quella specifica predizione. Infine l'altra tecnica che viene utilizzata è la tecnica detta SHAP, Shapley Value, è una tecnica che assegna a ogni variabile di input un valore che indica quanto quella variabile contribuisce alla predizione del modello tenendo conto di tutte le possibili interazioni fra le variabili. Sempre viene tenere a mente che il machine learning non può garantire la correttezza, l'accuratezza o l'eticità addirittura dei suoi risultati e abbiamo già detto che essi dipendono dalla qualità e dalla quantità di dati utilizzati per l'addestramento e questo perché abbiamo già detto che i dati possono essere soggetti a errori, rumori e anche incongruenze come falsificazioni, sbilanciamenti, insomma una serie di cose che possono influenzare il comportamento o l'output dei modelli. Questo significa che i modelli effettivamente possono produrre risultati errati, inaffidabili, ingiusti e questi risultati ovviamente possono causare danni o comunque avere un impatto negativo sulle persone o sulle attività in cui sono utilizzati. Per esempio, se un modello di machine learning viene usato per prevedere il rischio di malattie cardiache in base a feature o caratteristiche come età, sesso, peso, pressione sanguigna, ma i dati per l'addestramento contengono delle incompletezze, delle inaccuratezze o sono sbilanciati verso solo una categoria di persone, gli anziani per esempio, il modello può essere incapace di riconoscere o valutare correttamente il rischio di altre categorie di persone, donne e giovani. Per questo motivo è importantissimo verificare la qualità e la quantità dei dati usati per il machine learning e quindi bisogna anche applicare dei criteri di correttezza, accuratezza ed eticità sia nella progettazione che nella valutazione dei modelli. Ci sono moltissimi modi per misurare e migliorare questi aspetti e su tutti, ricordiamo, le metriche di prestazione, accuracy, accuratezza su tutte, ma anche matrici di confusione, curve ROC e IUC, principi di equità, eccetera. È importantissimo verificare la qualità e la quantità dei dati usati per il machine learning e applicare dei veri e propri criteri di correttezza, accuratezza ed eticità quindi nella progettazione e nella valutazione dei modelli. E questo perché, per vari motivi, ma fondamentalmente perché 1. La qualità dei dati influisce pesantissimamente sulle performance dei modelli di machine learning e quindi anche sulla qualità dei servizi o dei prodotti che derivano da questi modelli. 2. La quantità dei dati influisce sulla capacità dei modelli di machine learning di generalizzare e quindi adattarsi a nuovi scenari e nuovi domini. 3. La correttezza dei dati influisce sulla capacità dei modelli di machine learning di evitare distorsioni, pregiudizi o discriminazioni verso determinate categorie di persone o anche verso entità. 4. L'accuratezza dei dati influisce sulla stabilità dei modelli di machine learning e quindi anche sulla loro capacità di fornire risultati affidabili e verificabili. 5. L'etica dei dati influisce sulla capacità dei modelli di rispettare diritti, norme, valori delle persone, privacy delle persone o delle organizzazioni coinvolte nel processo di raccolta, distribuzione e poi utilizzo finale dei dati. Ecco ora proprio alcuni esempi di applicazioni di machine learning che richiedono particolari attenzioni ai criteri di qualità ed etica dei dati. Innanzitutto abbiamo per esempio la valutazione del rischio nel sistema di giustizia penale. Questo tipo di applicazioni, i modelli predittivi applicati a questo campo, richiedono esplicitamente che i modelli di machine learning non siano influenzati da dati che comunque perpetrano pregiudizi razziali, sociali o economici al fine di non penalizzare imputati che rientrino in determinate categorie sociali o economiche. Altro campo, veicoli autonomi. In questo caso il core del modello deve essere in grado di prendere decisioni rapide, sicure e quindi le più giuste possibili in situazioni molto complesse e spesso imprevedibili. Chiaramente in questo caso il focus del modello di machine learning risiede nell'accuratezza, nell'affidabilità e nella robustezza, oltre per esempio a rispettare principi morali ma anche legali come rispettare il codice della strada. Altro campo, l'utilizzo dei dati per scopi ambientali, sociali o sanitari. Questo perché l'utilizzo dei modelli che utilizzino questi dati può avere in effetti un impatto positivo o negativo anche ovviamente sulle vite delle persone e addirittura sul pianeta. In questo caso si richiede che i modelli di machine learning siano quanto più possibile trasparenti, spiegabili e responsabili e che nelle loro azioni, nelle loro scelte tengano conto anche di implicazioni etiche.